Ciao a tutti da Gentuber Siaki e Tommy In un'altra puntata di giochini epiti Oggi giocheremo a Penguins Consigliato da Matti per sempre Grazie Matti Ok, iniziamo Allora, easy, medium, hard Ho visto già che era abbastanza facile Quindi giochiamo su Hard Oh, God Oh, allora Noi saremo questo pinguino che sembra che si sia mangiato Sembra che si sia mangiato una scopa perché È un po' rigido Forse non se l'è mangiata però Abbiamo capito E gli altri invece sono di fatto neanche hanno gli occhi rossi Oh, questo è grosso Bam, bam, bam Si girano anche, non ti vedono proprio questa Vanno proprio alla cassa Finish them off C'è da uno Bam, bam Bam, bam Headshot Beh, epico E noi qua possiamo compare Munizioni Oppure da qua di fianco l'orso polare che ha L'orso polare pirata Ciao, l'orso pirata Non lo chiamare No, non vuole Dove sono le munizioni? Queste qua, vai No, voglio vedere quanto ne ho io Ah, ma sono infiniti, mi sa, vai Allora, aspetta 4.000 che prima mi sono comprato la K e qualcosa di epico E quindi, quanto costano? Ah, così 800 Potrei già quell'imitare? Ah, no Potresti, non potresti No, 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 aspetta la K, aspetta la K E aspettiamo la K Next round, lassù in alto a sinistra Ok, come avete capito io non sono ancora mai giocato a Yaki Oh, 5 minuti mi è già piaciuto ed ecco cosa di epico Cioè, guardate, guardate gli sbudelamenti pinguiniche Chi è che non ha mai sognato di uccidere dei pinguini? Dei pinguini, ma non dei pinguini qualunque Dei pinguini con una mazza da baseball con cappello E noi siamo un fottuto pinguino con una fascia Bandana Con una fascia che non si sa cosa Vai a prendere soldi Un'eschinese Hard Adesso Finishing Questo è duro, eh Era grosso questo C'era stato molto bravo Era uno dei peggiori Ricordati di prendere i soldi Muori Si, hai dei soldi di fine No, niente Ancora pochi Eh, si Next round, ancora Next round Ragazzi, si va Oh, siamo in una conca Siamo nella merda Ok Ok, Tommy Dovrei tirare fuori il tuo lato terroristico Bam Bam, bam Il tuo lato Jackie Chan Il lato Jackie Chan di Tommy Ah, beh, che stanno giocando Tommy Loro non lo sanno Ah, è vero ragazzi, perché c'è tutto questo per gli altri Però oggi non c'aveva voglia di parlare E allora, ah, allora mi sembra giusto Visto che non c'aveva voglia di parlare Merdo perso i soldi Sei un idiota, è la prima cosa che devi prendere Eh, ma non voglio per cambiare sti bottini Sì, ma beh, ma guarda quante vite c'hai Ragazzi Dai, vai avanti Prendi i soldi L'ho presi Ma fa Eh, bam, bam Bam, bam, bam Guarda, guarda, ancora dosso lui mi vuole Ma io non gli ho E vai Ok, oh, AK Diretto AK Vai e no Ah, perché poi anche comprare il tipo potestemente per ammuntare la Oh, buono Cazzo ho detto Aumentare la precisione o il danno Vabbè, compriamo l'equipatimento Oh, vai Ah, mi chiami con la rotellina Va bene Via Si parte Uh, molto Oh, cos'è, cos'è Stagli a lontano, stagli a lontano Oh, pazzi Sono degli esaltati Vai Ah, qua c'ha le munizioni, eh Quindi Dai, coraggio Vai a prendere Dai C'hai un casino di vita È che io non vorrei che quellissimo ci sia esplodere Infatti si può esplodere Ah Vabbè, ho capito, ma sono i disi Attento Stai qui dietro, non posso sponare là dietro, non è Vattene Oh, mio Dio Ok, ragazzi, tommi a superato il momento Ok, penso che compro un po' di vita Assolutamente E poi prendiamoci qui, subito Ragazzi, non abbiamo i fondi, mi dispiace Guarda lo tra, ma scusa La Gatling, mamma mia, tipo il grosso in Team Fortress Vabbè, dai Facciamo Rocket Launcher Dai, vai, next round a game Sì, sì Aspettiamo un po' Magari, diciamo appena qualche arma a click Da farvi vedere Speriamo Su una base Oddio E questo chi se lo aspettava Cosa lancia? Putta Oh, muori Non c'hai cazzo di vita Adesso si è morti Adesso si è morti Adesso si è morti Oh, mio Dio Tra sei beccata E sei morto come un sacco di patate Ok Dai, insomma, mi sembra un modo di vita Oh Posso scegliere un mino a prendere, voglio questo No Ah, no Scegliere E' l'incontro, restata No Ragazzi, hard era davvero hard Però mi spiace, però, perché è l'arizio Sì, ormai Però posso fare due episodi perché è epico Lo posso fare io all'altro episodio Lo facciamo in music No, no Non so, io Allora, no Mediù Allora, ragazzi, bravo Questo qua, il episodio Per questo episodio è tutto Da gente E' tutto Nel prossimo episodio C'è che Yaki è il mio nome, quindi Devo dirlo io Aspettiamo un attimo Finisci a Sanfra Dobbiamo litigare davanti tutti Dobbiamo litigare davanti tutti Vado avanti al mandalino Va bene Nel prossimo episodio cercheremo di prendere delle armi più fighe Giocando in medium perché siamo un po' nabini E dai, dai, adesso lo fa un primo luso Dai, panna, panna E da Gentuber, Siaki è tutto Alla prossima E anche da me